Nuova giornata di tensione all'ex base militare di Conetta dopo la rivolta notturna per la morte di una 24enne, cancelli bloccati, polizia in assetto antisommosso e la situazione sbloccata dopo ore. L'eco della rivolta e le reazioni istituzionali, la prefettura decide lo spostamento di un centinaio di migranti da Conetta, destinazione Emilia Romagna. L'esito dell'autopsia sul corpo della 24enne, morte naturale istantanea, aperta un'inchiesta in procura, i migranti rivoltosi rischiano un'incriminazione per sequestro di persone. La rivolta all'ex caserma di Conetta e l'emergenza profughi in Veneto nell'editoriale del direttore Luigi Bacialli. La protesta dei residenti del palazzo comunale del quartiere Città di Marghera siamo stati dimenticati dal comune e lasciati in balia del degrado. Cominceranno a giorni i restauri del ponte dell'Accademia Venezia con lo smontaggio e la sostituzione delle parti in legno e metalliche degradate. A Maestra è registrato ancora uno sforamento dei livelli di polveri sottili, se lo smog non diminuisce nel veneziano saranno a rischio anche alcuni roghi dell'epifania. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia. Maestra è dunque ancora in primo piano la giornata di altissima tensione vissuta davanti all'ex base militare di Conetta dopo la rivolta notturna per la morte di una 24enne ivoriana. Oggi una nuova protesta a forze di polizia in assetto antisommossa e risse all'interno del campo. Intanto è stata anche eseguita l'autopsia sul corpo della giovane deceduta, morte per cause naturali. È stato un decesso quasi istantaneo. La rivolta permanente. Conetta e la sua ex base militare sono il fulcro di una rabbia che non cessa. Prima la notte dei fuochi e della protesta per la morte di Sandrine, 24 anni in un sogno spezzato nel bagno di un container. Poi la rabbia e i cancelli chiusi alle forze dell'ordine. Le luci del giorno non fermano la sommossa che ieri ha portato a sequestrare 25 operatori della cooperativa Ecofficina che stamane non sono ritornati, sostituiti da colleghi. Sono le 10.30 quando il furgone per consegnare i pasti arriva lungo la strada sterrata che porta al campo da 1.500 forze e 1.700 migranti. Stop, non si passa. Sono gli ivoriani una cinquantina a inscenare il fermo, gli stessi che hanno acceso la rivolta notturna, i concittadini di Sandrine che ora rischiano una incriminazione per sequestro di persona. Situazione surreale. Dentro al campo molti profughi si ribellano contro i loro stessi compagni e non mangiano da ore. Al cancello e fuori i manifestanti non demordono e sfidano polizie e carabinieri invitando i giornalisti ad entrare. È chiaro che non è concepibile bloccare i pasti e condizionare la vita di 1.400 persone che vivono all'interno del campo, ma è chiaro che in questo momento prendere decisioni forzate non è facile e soprattutto non è opportuno. Lo stop dei migranti è chiaro, dare visibilità al loro disagio. La situazione qui è orribile. Stiamo soffrendo, fa freddo, c'è troppa tensione, non siamo seguiti. Abbiamo bisogno di ribellarci ancora. Il fuoco fa pochi passi, sempre bloccato dentro il campo del caos. Scoppiano anche risse. Nel frattempo giunge una notizia attesa da molti. L'esito dell'autopsia sul corpo della ragazza morta. A Stroncarla è stata una tromboembolia polmonare, un decesso pressoché istantaneo. Nemmeno il soccorso più tempestivo l'avrebbe salvata. Ai cancelli intanto dopo ore di trattative il furgone riesce a passare ma la tensione resta forte. Tanto che nel pomeriggio il mezzo tornerà indietro senza consegnare il cibo. Stallo completo. I migranti vogliono parlare al più presto anche con il nuovo prefetto, Carlo Boffi. Si lavora anche per questo. Sarà lui a decidere. Mi aveva dato delle indicazioni positive. Resta una situazione esplosiva ormai ingestibile e un territorio ferito forse in modo irreparabile. L'abbiamo detto più volte. Questa situazione deve essere modificata ma non a parole. Nei fatti con un nuovo progetto che deve fare la politica. Non i prefetti. I prefetti sono esecutori di un progetto che non c'è. Con il pallottoliere non si salvano le vite. Avete sentito a tirare in ballo più volte nel corso di questo servizio la prefettura di Venezia che proprio pochi istanti fa ha comunicato che su disposizione del Ministero dell'Interno si procederà alla riduzione del numero di ospiti nell'ex base militare di Conetta. Già da domani mattina si procederà al trasferimento di un centinaio di richiedenti esilio presso le strutture dell'Emilia Romagna. Ma ora facciamo un passo indietro e riviviamo quella che è stata una notte di tensione così come la giornata d'altro canto a seguito della morte della 24enne ivoriana. Vediamo. Fuochi e rabbia, luci spente, 25 operatori bloccati per 7 ore nei container e negli uffici amministrativi. La rivolta nel giorno più lungo di Conetta. L'ex base militare con oltre 1.500 migranti al suo interno si trasforma in una bolgia di urla e minacce facendo temere il peggio. Solo poco prima del 1.30 della notte la mediazione di polizia e carabinieri consente di sbloccare la situazione facendo uscire i reclusi, non solo volontari ma anche due medici e un'infermiera terrorizzati dopo che per lungo tempo sono rimasti chiusi al buio. È una rabbia che esplode perché stavolta nel megacentro di accoglienza da sempre nel mirino delle polemiche una persona c'è morta. Sandrin Bacayoko, 24enne ivoriana, arrivata a settembre con il marito con un barcone partito dalla Libia. Trovata esanime nei bagni, un malore e una caduta. È lo stesso marito trentenne. Raccontarlo. Uno dei miei amici ha detto che guarda dentro del bagno perché io l'ho visto dentro del bagno, ma io non le so se c'è dentro del bagno, ma vai vedere prima, se vai vedere dentro il bagno. Io anche lui ha avanti il bagno, aperta e non va, è chiuso. L'ha forzato perché il bagno non ha tanto chiave così, è sempre piccolo chiave. Quindi subito ho visto la ragazza e partirà. Secondo il racconto dei migranti la ragazza era scomparsa dalle sette del mattino fino al ritrovamento alle dodici, ma i soccorsi sono arrivati due ore dopo. La nota ufficiale dell'ospedale di Piove di Sacco indica che alle dodici e quarantotto è giunta la chiamata al SUEM e l'ambulanza è arrivata tempestivamente. Ecco le immagini della 24enne che viene portata via in barella d'urgenza in vano, visto che la ragazza morirà poco dopo. Nel frattempo la base viene occupata. Ma adesso il campo l'avete occupato? Sì, tutti. È solo vostro? Avete spento voi le luci? Sì, sì, tutti ragazzi. E dentro ci sono quelli dell'eco-officina, della cooperativa? Sì, tutti. Ci sono anche loro? Tutti, sì, tutti. Perché la morte di Sandrin è la goccia che fa traboccare un vaso stracolmo, condizioni che gli ospiti definiscono disumane, stipati in container e spesso al freddo. No, arriva acqua. Da quando? Da oggi? No, oggi. No, oggi. Non c'è mai stata l'acqua. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Anche scaldare. Niente. Tanti dubbi, tante domande, ma solo la certezza, così a Cona non si può più andare avanti. E sull'assistenza alla 24enne ivoriana, poi deceduta, si è espresso anche Gaetano Battocchio, il presidente di eco-officina, la cooperativa che gestisce il campo profughi di Conetta. Non c'è stato alcun ritardo nell'assistenza. Ha detto, il caso è stato gestito da un medico interno al campo, un medico professionista che ha subito chiamato il 118. Riguardo alla condizione in cui vivono i profughi, ha giunto a Cona le regole vengono rispettate e tutti sono trattati bene. Allora su questa vicenda ascoltiamo l'editoriale del nostro direttore Luigi Bacialli. È inutile dire che una delle zone più critiche quando si parla di migranti è quella a cavallo tra le province di Venezia e di Padova. Perché a Cona è successo quel che è successo, a Cona, Conetta. Sono due paesi su cui insiste la presenza di tantissimi extracomunitari e poi c'è la provincia di Padova con Bagnoli, che è un altro hub gigantesco dove sono concentrati moltissimi uomini e pochissime donne, peraltro. E tra l'altro tutte persone che si trovavano, ricorderete, nell'ex Prandina, caserma di Padova di Smessa, dove erano stati concentrati, c'erano state le proteste della popolazione e a quel punto, come sempre, la decisione di spostarli altrove. E si procede così, spostandoli altrove. Ma non è così che si risolvono i problemi in questo paese, in province così dense di persone che dovrebbero avere tutti i titoli per chiedere di restare in questo paese. Perché un conto è fuggire dalle guerre, dalla fame, dalla disperazione, un conto è migrare per trovarsi in una situazione migliore. Nella provincia di Venezia, nella provincia di Padova, in tutto il Veneto, la gran parte di questi migranti è formata da persone che sono migranti economici, che quindi non fuggono da guerre o dalla fame, ma cercano una vita migliore. Come fare a trovarla in Italia, dove la situazione della popolazione è quella che è, con la gente che non sa come pagare le bollette, che non sa come arrivare alla seconda settimana del mese. No, noi continuiamo a prenderli, andarli a prendere con le nostre navi e li portiamo sia a Cona che a Bagnoli che in altre province del Veneto. Bisogna, come dice il governatore Zaia, fermare questi flussi, espellere tutti gli irregolari ed evitare soprattutto che anche qui nella nostra regione ci possano essere infiltrazioni pericolosissime come quella del profugo che come avete visto ha ucciso anche un'italiana nella strage di Berlino e poi tranquillamente se n'era tornato in Italia. La politica ha reagito compatta ai fatti di Conetta chiedendo all'unisono la chiusura dei CIE a partire da quello di Conetta. Lo sostiene anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Spiace per quello che è accaduto, la morte di una persona così giovane poi assolutamente è un fatto gravissimo, però è tanto vero che non si può soprassedere su questi faccino rosi, su questi che hanno fatto questa sorta di insurrezione bruciando bancali, tenendo ostaggi i dipendenti della cooperativa, quindi per questi signori va fatto subito l'espulsione, un'espulsione immediata, dopodiché il centro di Cona e i nostri centri vanno chiusi e gli immigrati vanno aiutati a casa loro e non in Veneto. Non c'è altra soluzione, secondo il governatore Luca Zaia, convinto che quanto successo a Conetta sia la spia di una situazione ormai intollerabile. Quando si dice che le caserme sono il segnale di una mancata ospitalità diffusa, che basterebbe il 3 per 1000 della popolazione e quindi mettere gli immigrati che pesino il 3 per 1000 sulla popolazione di ogni comune vuol dire non sapere neanche la matematica. In Veneto ad oggi sono arrivati 30.000 immigrati. Bene, di questi 30.000, oggi almeno 14.000 sono i nostri centri d'accoglienza e gli altri sono spariti. Io dico che se facessimo il 3 per 1000 dei 5 milioni di abitanti fa 15.000, vuol dire che abbiamo già il doppio del 3 per 1000, quindi noi abbiamo già dato e siamo fortemente preoccupati di quello che sta accadendo e di quello che accadrà. In Bulgaria gli fa eco il leader leghista Matteo Salvini. Dopo un episodio di rivolta simile a questo, centinaia di richiedenti asilo sono stati espulsi. In Italia invece non succederà nulla. Quando sarà il governo promette ci saranno espulsioni di massa, chiusura dei centri e navi della marina militare che soccorsi i migranti in mare li riporteranno indietro. Contro i campi si esprime anche la presidente del Friuli Venezia Giulia e vice segretaria PD Deborah Seracchiani. Resto convinta che sia necessario aumentare le espulsioni, dichiara, e che i CIE non abbiano funzionato per niente. Per questo ne abbiamo convintamente chiesto la chiusura. La commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza ha intanto annunciato che aprirà un fascicolo sui fatti di Conetta, tra i convocati il nuovo ministro dell'interno Marco Minniti. Voltiamo pagina, ci spostiamo a Marghera per raccontarvi la storia di un intero condominio che chiede aiuto al comune di Venezia. Guardiamo perché. Il sindaco dovrebbe anche pensare e mettersi una mano nella coscienza di aiutarsi a venire incontro anche perché noi siamo abbandonati con tutto. Siamo in una delle torri che dominano il quartiere città di Marghera, quella di proprietà comunale. Nonostante diversi appartamenti siano vuoti, di cui abitano 68 famiglie, circa 350 persone. Ma la manutenzione non si vede più da anni. Le segnalazioni dei residenti sono rimaste senza risposta e i problemi continuano ad accumularsi. Spacciatura che buttano, spacciature di qua e di là. Sono daie che stanno cadendo e sono rotte tutte a pezzi. Ecco, ci sono le mattonelle che stanno cadendo, che prima o dopo ci verrà in testa qualcosa. I problemi non sono solo all'esterno della struttura, dove alcune parti danno l'impressione di poter cadere, o tra i cumuli di spazzatura, nei garage o negli scantinati. Già al piano terra incontriamo un'altra difficoltà, un ascensore fuori servizio. Abbiamo disabili, abbiamo gente che portano su e giù le bombole dell'ossigeno, la gente è malata, insomma quindi ci servono gli ascensori. In uno dei pianerottoli una tenda copre la porta d'ingresso di un appartamento. C'era un signore che è stato messo dagli servizi sociali in casa di riposo. Hanno dovuto rompere la porta e liberare un po' l'appartamento, però vengono fuori degli odori sgradevolissimi. Quanto tempo c'è questa situazione? Due anni sicuri, due anni sicuri. Sulla via del ritorno un altro condomino che ha chiesto però di non farsi riprendere si sfoga al microfono. C'è 35 anni che provo a scappare via di qua. Qua sta cadendo a pezzi il palazzo. Qua è un via vai, specie di note, qua c'è sesso, droga, c'è di tutto. Qua c'è un via vai di tutto. Avete fatto presenti al comune che ci sono questi problemi? Sì, sì. Risposta avete? Niente. Da Marghera ci spostiamo a Venezia perché inizieranno finalmente i lavori di restauro del ponte dell'Accademia. La gara d'appalto per il restauro del ponte dell'Accademia si è chiusa venerdì scorso con l'apertura pubblica delle buste. Ad aggiudicarsi l'intervento finanziato con una donazione privata da 1.700.000 euro un'associazione di imprese romane e veneziane. Nei prossimi giorni saranno svolte le verifiche amministrative. I lavori dovrebbero essere avviati nei primi mesi dell'anno e completati in 210 giorni. Il restauro sarà realizzato attraverso lo smontaggio e la sostituzione delle parti in legno e metalliche degradate, la manutenzione diffusa degli arconi e delle strutture di controvento con saldatura e verniciatura, l'inserimento di elementi distanziatori e di elementi di sacrificio per salvaguardare le parti più difficilmente sostituibili durante la futura manutenzione programmata. Nella realizzazione dell'intervento, puntualizza l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, si è tenuto conto delle esigenze di mobilità delle persone con problemi di deambulazione. Ancora problemi di smog. Maestre, dal punto di vista dello smog il nuovo anno è iniziato perfettamente in linea con il 2016, con uno sforamento dei limiti delle polveri sottili che sono oscillati dai 252 microgrammi per metro cubo d'aria registrati dalla stazione Arpar di Via Tagliamento ai 201 del Parco Bisuola. Le condizioni meteorologiche potrebbero però venire in soccorso con un rinforzamento dei venti sulla pianura padana, a mitigare una situazione che potrebbe essere ulteriormente aggravata dai roghi dell'Epifania, tanto da averli messi in forse in alcune località. La rivolta dei migranti a Cona è il centro della discussione a Focus, questa sera in diretta su Rete Veneta a partire dalle 21.05, ospiti del direttore Luigi Bacialli, Elena Donazzan, Pietrangelo Pettenò, Settimo Gottardo, Giancarlo Iannicelli, Alfredo Belluco, Raffaella Zanellato e Giovanni Deriu. Come sempre aspettiamo i vostri sms, vi ricordo anche l'appuntamento con Sveglia Veneti, domani mattina a partire dalle 8.10, ospite il sindaco di Scorzai Giovanni Battista Mestrinere. Con questo per stasera da Venezia è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo e al presepio di Rosseno Torteto di Marconi. brought some corn for poppin' brought some corn for poppin' the lights are turn way down low let it snow, let it snow, let it snow when we finally kiss goodnight how I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear we're still goodbye As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Le previsioni per domani Tempo per lo più soleggiato Con cielo poco o parzialmente nuvoloso Per nuvolosità alta Clima asciutto in montagna Dove sarà possibile la presenza di Fon Nel pomeriggio sera Solo sulle zone dolomitiche settentrionali Non si esclude in serata qualche modesto fenomeno nevoso Temperature minime in lieve calo Un po' più sensibile in pianura Massime in aumento in montagna E in calo in pianura Un po' più sensibile 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 in pianura